L'Europa un traguardo vicino ed un sogno, l'Europa per la Lazio ma chissà anche per il Cagliari. Buon pomeriggio dal Sant'Elia, da Daniele Barone e Claudio Onofri. Attacca il Cagliari sulla destra, il cross verso Nenè, qui un po' vuoto Berni. Palla filtrante per Sculli, spalla la porta, deve girarsi, trova Gonzales, posizione regolare, il controllo è il destro del giocatore uruguayano. L'Edesma batte il calcio d'angolo, pallone che arriva verso Kozak, è la parata di Agazzi. Va Hernanes con il destro, Agazzi non trattiene la palla che rimane lì. Acqua fresca, posizione regolare, acqua fresca in area di rigore con il destro, acqua fresca, autogol di Andre Diaz. E Cagliari in vantaggio al quarantesimo minuto, sul destro di acqua fresca, il tocco in gol di Andre Diaz che nel tentativo di liberare ha invece spinto il pallone in gol. Voleva lasciarla andare e buttarla via di sinistro, non c'è riuscito, gli è picchiata sulla coscia e è andata dentro. Il passaggio dell'uruguayano per l'Edesma, palla sul sinistro, poi sul destro, vuole provare l'Edesma, a gran destro, la parata di Agazzi e poi Kozak. E il pallone che finisce fuori la Lazio vicinissima al pareggio. Matusalem, Hernanes, spazio per un tiro, invece lo trova Hernanes, un gol sinistro, una parata di Agazzi. Hernanes, il pallone che finisce fuori, con la direzione finale di Floccari. Cerca spazio per un cross, ballo uno contro uno, Perigo con Radu, palla dentro per Missy Roli che era in posizione regolare. Parte Conti con il destro, Berni, devia in calcio d'angolo. Parte l'Edesma, con i pugni Agazzi, fischia l'arbitro, finisce al Sant'Elia, il Cagliari vince 1-0, si interrompe la...